queste festività sono festività molto particolare nella situazione in cui ci troviamo però dobbiamo viverle bisogna partecipare per sentirsi anche meno soli e meno lontano dai propri cari mia figlia vive a berlino e lei voleva venirmi a trovare ma io ho detto l'importante è la salute quando sarà tutto passato ci ritroveremo e ci riabbraceremo e faremo una grande festa distanti ma vicini proteggiamoci ancora